Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, sabato 22 settembre 2018, dove in primetime è andato in onda lo speciale stanotte a Pompei condotto magistralmente da Alberto Angela. Su canale 5, invece, è andato in onda il concerto speciale di Laura Pausini dal Circo Massimo, registrato quest'estate a Roma mentre su Rai 2 proseguono gli appuntamenti con la pallavolo, video virgola volano gli ascolti di stanotte a Pompei con Alberto Angela che arriva al 24% di Sheryl Verdetto Auditel di ieri 22 settembre rivela che ad avere la meglio in primetime è stato Alberto Angela con lo speciale stanotte a Pompei, che ha letteralmente stravolto il concerto flop di Laura Pausini. Nel dettaglio, infatti, stanotte a Pompei ha catturato l'attenzione di oltre 4,2 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 24,30% di Sheryl Verdetto. Numeri da record per la prima serata di Rai 1 che quest'anno potrebbe dare del filo da torcere al fortissimo Tussi Cuevales condotto da Belen Rodriguez su canale 5. Punto dalla prossima settimana, infatti, Alberto Angela sarà ancora su Rai 1 con la nuova edizione di Ulisse, il programma di divulgazione scientifica che passa dalla prima serata di Rai 3 a quella di Rai 1. Punto il concerto di Laura Pausini fa flop di ascolti su canale 5 su canale 5, invece, risultati flop per il concerto di Laura Pausini da Circo Massimo. Lo show ha raccolto una media di appena 1,5 milioni di spettatori, fermandosi all'8,80% di Sheryl. Numeri decisamente bassi per la prima serata della rete Ammiraglia Mediaset e infatti lo show della cantante romagnola è stato doppiato anche dalla pallavolo che su Rai 2 ha toccato il record dei 3 milioni di spettatori arrivando al 16% di Sheryl. Punto in daytime, invece, record di ascolti per la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, che ieri pomeriggio ha ospitato in esclusiva Lori del Santo, video, la quale per la prima volta ha parlato della morte di suo figlio. Il programma ha registrato una media di oltre 2,3 milioni di spettatori pari al 22% di Sheryl, con picchi di oltre il 25% durante il momento della toccante intervista alla showgirl.surai1, invece, ascolti Bassini per la seconda puntata di Italia Si. Il programma condotto da Marcio Liorni. Ieri pomeriggio, infatti, è stato scelto da una media di 1,1 milioni di spettatori fermandosi al 10,50% di Sheryl. Il programma è stato travolto dal ciclone Verissimo che questa settimana ha avuto la meglio, doppiando il People Show di Liorni. Grazie a tutti.